Ciao Matteo e un saluto a chi ci segue da casa. Se l'argomento degli insetti a tavola vi ha stuzzicato e volete anche voi cimentarvi in qualche ricetta un po' insolita, beh l'applicazione che ho trovato fa proprio al caso vostro, si chiama Appetitious Bugs e vado subito a mostrarvela. Partiamo dalla loro pagina Facebook, questa è la nostra e quella e questa è la loro appunto, Appetitious Bugs. È un'applicazione molto semplice che vi dà una serie di idee su come cucinare questi insetti in cucina. Aprendola vedrete che appunto ci sono delle sezioni, quattro sezioni, la prima quella delle ricette, la seconda quella delle curiosità, poi quella dello store e la bibliografia. Quella dello store è interessante perché vi permetterà geolocalizzando il vostro dispositivo di individuare quali sono i negozi in Italia più vicino a voi che vendono insetti, dove quindi poter acquistare i prodotti da cucinare poi. Le ricette sono divise per tutta una serie di categorie, dalle zuppe all'insalata, ad esempio guardiamo qui l'insalata, possiamo scegliere insalata di vespe, si sembra strano ma qui è suggerito in pochi passi come realizzare questo piatto e come sicuramente stupire i vostri amici o forse generare qualche reazione un po' più insolita. L'ultima sezione che vi mostro è quella delle curiosità, dove potete vedere tutta una serie di dati nutrizionali di ogni prodotto, quindi in base all'insetto vedere quante calorie, protei o grassi ha e quindi regolarvi facendo i confronti con gli elementi più tradizionali. Vi ricordo che l'applicazione si chiama Appetitious Bugs, purtroppo per ora è disponibile solo su Apple Store al costo di 89 centesimi, però insomma io ho curiosato un po' e ci sono una serie di ricette veramente curiose che vi consiglio di sperimentare, poi fateci sapere cosa ne pensate. Vi saluto qui e vi do appuntamento alla prossima App.